Ciao, mi chiamo Gabriella e frequento il terzo anno della scuola del San Sero. Mi piace molto ballare, per questo ho iniziato a fare questo corso e ho scoperto in questa scuola che Gabriele è un bravo insegnante ma è soprattutto un bravo organizzatore e molto bravo a creare la coesione tra le persone. E questo mi piace molto perché oltre ad essere una scuola di ballo è un gruppo molto unito e si sono create anche delle amicizie tra di voi molto forti. Grazie.